Praticare kayak da mare permette di osservare la costa da un punto di vista privilegiato, arrivando in luoghi inaccessibili al turismo di massa e spesso anche alle altre imbarcazioni. Ci sono però dei pericoli che non vanno sottovalutati per evitare di trovarsi in situazioni spiacevoli. Una delle prime cose a cui bisogna prestare attenzione sono le condizioni meteomarine, che a volte possono cambiare rapidamente. Può capitare infatti di partire con una bella giornata, poi man mano tutto cambia ed il mare si alza o arriva un temporale. Per cui prima di un'uscita in kayak è bene valutare non solo se c'è sole, ma anche se è previsto mare agitato. E bisogna valutare l'intensità e la direzione del vento. Il tutto va interpretato in base alla conformazione della costa. Può capitare infatti che una zona di questa sia riparata e ci sia mare calmo, mentre qualche chilometro dopo ci sia una zona più esposta ed il mare sia agitato. Il fatto di vedere il mare come un ambiente con cui abbiamo familiarità può portare persone poco esperte ad avventurarsi in esplorazioni sotto scogliera. Una particolarità di questi luoghi però è che per lunghi tratti può essere impossibile scendere a terra, quindi in caso di ribaltamento bisogna essere in grado in qualche modo di risalire in kayak dall'acqua, altrimenti diventa un bel problema. La risalita inoltre bisogna saperla fare bene con mare formato, perché probabilmente è questa la condizione in cui avverrà il ribaltamento. Lungo una scogliera si deve prestare attenzione anche alle condizioni del mare quando ci si ferma in una baia. Una situazione classica è quella in cui si parte con mare calmo, ci si ferma in una baia per diverso tempo, ad esempio a mangiare o a fare il bagno, ma intanto il mare cambia e non ce ne accorgiamo perché nella baia siamo riparati. Quando si esce per tornare indietro o proseguire ci si accorge che il mare si è agitato e se non siamo in grado di affrontarlo l'esperienza può diventare spiacevole. Un'altra cosa a cui si deve prestare attenzione quando si naviga sotto scogliera è la possibile caduta di sassi. Quindi va bene navigare abbastanza vicino a questa per evitare di trovarsi sulla traiettoria delle barche, però bisogna mantenere una distanza di sicurezza di alcuni metri quando la sua conformazione potrebbe sporci a sassi che cadono dall'alto. Soprattutto nella stagione estiva il mare è affollato da imbarcazioni, per cui è meglio evitare di pagaiare a largo per non trovarsi sul loro percorso. Per superare i porti bisogna aspettare gli altri kayakers che sono con noi e quando non passano barche attraversare tutti insieme. Questo renderà i kayak più visibili ed eviteremo di intralciare troppo il passaggio attraversando singolarmente in momenti diversi. In estate, la mattina presto e la sera ci sono molte barche che si mettono in movimento per raggiungere le varie calette o per rientrare in porto. Spostandosi tutte insieme alzano molte onde. Se non siamo esperti o abbiamo persone inesperte con noi, dobbiamo tenerne conto perché anche se le previsioni danno mare calmo, in alcuni orari potremmo avere un mare abbastanza agitato. Quando si esce in kayak si passano molte ore in mare e a seconda delle stagioni ci si deve riparare dal sole o dal freddo. In estate è importante utilizzare un cappello, creme solari, una maglia illigra, addirittura maniche lunghe se si è sensibili al sole. Se facciamo escursioni di più giorni potrebbe essere utile portare un cappellino o un paio di occhiali da sole di riserva. Bisogna avere sempre con sé acqua a sufficienza. Se usciamo in kayak in mesi più freddi dobbiamo avere il giusto abbigliamento tecnico. Per quanto riguarda ciò vi rimando ad un tutorial sull'abbigliamento sempre in questo canale YouTube, vi metto il link in descrizione. Non va sottovalutato l'abbigliamento in primavera e in autunno quando nelle ore centrali della giornata si sta bene ma poi inizia a fare fresco e si deve tenere presente anche che ci si bagna pagaiando o che può capitare un ribaltamento. Quindi va bene portare abbigliamento in più nei cavoni per far fronte ad ogni evenienza. Chi va in kayak spesso è privilegiato perché può raggiungere zone dove pochi arrivano e la loro bellezza può portare a scendere per fare una sosta o un bagno. Però bisogna fare attenzione perché questi luoghi poco accessibili generalmente sono tra gli scogli e tra gli scogli si possono prendere storte, scivolare e si trovano i ricci. Questo abitante del mare se ne sta tranquillo per conto proprio ma se inavvertitamente lo calpestiamo gli aculi penetrano nella pelle e le punture sono dolorose. Invito a cercare nel web cosa fare quando si calpesta un riccio in quanto il trattamento non è argomento di questo tutorial. In ogni caso è bene indossare un paio di scarpette adeguate per prevenire il problema e prestare attenzione a dove si mettono i piedi. Altra cosa utile sarebbe avere con sé un piccolo astuccio per il pronto soccorso per fare fasciature veloci, medicazioni e dovrebbe contenere anche un paio di pinzette per togliere le spine. Quando si fa un'uscita bisogna dosare le proprie forze e tenere conto dell'orario per non farsi cogliere dal buio prima di essere sbarcati. Un kayaker esperto sa quanti chilometri è in grado di fare mentre chi è meno esperto può iniziare con percorsi brevi aumentando man mano la distanza per capire qual è il proprio limite. Ma il problema non è solo questo in quanto le condizioni del mare e del vento possono cambiare e se sono sfavorevoli i tempi di percorrenza si allungano e la fatica aumenta. Per cui è importante pianificare gli itinerari evitando di percorrere tratti troppo lunghi per le proprie capacità. Quando si ritorna al punto di imbarco si può effettuare il percorso in base all'orario. Ad esempio, se abbiamo a disposizione 5 ore calcoleremo 2 ore per andare e 3 per tornare. Quindi dopo 2 ore, indipendentemente da dove volevamo arrivare si torna indietro tenendo un ulteriore margine rispetto a quando fa buio.